Presidente, in Formula 1 si parte con la griglia di partenza, c'è quello in pool, c'è quello ultimo, poi magari quello in pool non arriva neanche al traguardo. Ecco, in una griglia di partenza di questo campionato di Basca, la tua squadra dove parte? Parte verso le prime file. Sicuramente quest'anno abbiamo una squadra più esperta, più lunga, più tosta fisicamente, credo che una dose di atletismo in più che sicuramente è mancata negli ultimi anni. E gli avversari? Tutti forti? Tutti forti, devo dire che se guardiamo i quintetti delle squadre del nostro girone, devo dire che sono tutti bei quintetti. Chiaramente ci sono due squadre che si elevano sopra le altre, che sono Verona e Udine, poi sicuramente ci sarà come tutti gli hanno una sorpresa, speriamo di essere noi la sorpresa del nostro girone. Grande passione a Forlì, come va la campagna abbonamento? Benissimo, l'abbiamo chiusa la prima fase a fine luglio, eravamo già un numero di abbonati superiore a quelli dell'anno scorso, ripartirà dal primo di settembre, per tutti i mesi di settembre, fino all'inizio del campionato, ma siamo fiduciosi anche quest'anno di riuscire a fare un numero di abbonati superiore a quelli dell'anno scorso.